Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno. Martedì 5 dicembre e ci sono tante notizie ufficiali sull'aggiornamento 3.2.0. Quindi nessuna introduzione e niente. Andiamo al nocciolo della questione. Grazie a David Igna per la segnalazione. Pubblicheremo la 3.2.0 di football il 7 dicembre 2023. Per ringraziare tutti del loro straordinario supporto, gli utenti che installeranno l'aggiornamento 3.2.0 entro l'11 dicembre 2023 riceveranno un accordo al buio. Una volta installato l'aggiornamento 3.2.0 accedi il gioco e apri la posta in arrivo per riscuotere l'accordo al buio. Potrai usare l'accordo al buio dopo il lancio dell'aggiornamento fino al 14 dicembre. non sappiamo assolutamente questo accordo al buio quali tipo di giocatori sbloccherà, se è un giro gratis per un pool da 150, se è un giro gratis per un pool particolare. Questo non lo sappiamo. Però sappiamo adesso la data ufficiale. Al 99% era già ufficiale il 7 dicembre, era già quasi certa, ma adesso siamo al 100%. Ed ora ragazzi quello che vedrete sono informazioni tratte da un articolo della Gazzetta dello Sport che ieri ha pubblicato in serata tutte queste informazioni che sono ufficiali perché vengono da una conferenza stampa virtuale a cui hanno partecipato vari siti di tutto il mondo. Ieri era comparso anche un articolo di Game Reactor che è stato cancellato. Non sappiamo bene il perché, non sappiamo se anche la Gazzetta ha sbagliato il tempo di pubblicazione, ci fosse un embargo. Comunque non lo sappiamo. Però queste informazioni in questo momento sono ancora online. Vedremo se lo saranno ancora. Io intanto registro tutto così almeno potete vedere tutto. Riprenderemo anche una frase che era solo su Game Reactor. Io l'ho letta, ve lo assicuro c'era tutto. La ripresa era in Galvani. Io l'avevo vista ieri. Ieri sera ero troppo distrutto, troppo stanco per fare il video. Ma veniamo quindi a questi contenuti che sono davvero tanti e ripeto sono sostanzialmente ufficiali. Coop e Booster Card. Dalla presentazione condotta dal Communication Lead Allspark del Director of Data Collection Klaus Ganner, tedesco, abbiamo potuto scoprire i dettagli sulle nuove feature in arrivo della versione 3.2.0 di Football 2024 in anteprima. Prima di cominciare lo studio ha approfondito le stanze evento per la Coop, una modalità già stabilita e molto ben accolta nel gioco. Il nuovo matchmaking permette a giocatori singoli di unirsi ad estrani online per team di tre e possono essere usate le emoji per comunicare e reggere eventi ai match Coop. Vabbè, questo. Quindi ragazzi, torna il matchmaking per creare i team senza bisogno di password e tutto quanto. Non si capisce qui se ci saranno solo eventi nel Dream Team o ci sarà anche una modalità amichevole. Io penso che ci saranno anche le modalità amichevoli. Non so se nelle amichevoli ci sarà un ranking. Però c'è il matchmaking. Questo è certo. Giovedì vedremo il resto. Inoltre, le Booster Card sono ora aperte a tipi di carte POTV ed epiche. Carte selezionate potranno ottenere Booster Doop in aggiunta. Insomma, pare che ci saranno delle Booster Card da aggiungere ai giocatori anche ai POTV. Anche qui, ragazzi, lasciamo aperta tutte le interpretazioni perché questo è quello che ha scritto la gazzetta. Magari giovedì vedremo poi in dettaglio un po' queste Booster Card come funzioneranno nei giorni successivi perché giovedì ci sarà tanto da vedere. Minigioco e matchmaking. Una prima novità abbastanza inospettata è l'introduzione di un nuovo minigioco da godersi a login in iFootball 2024. Nella fattispecie si tratta di un nuovo minigioco in cui gli utenti potranno tirare un calcio di rigore al giorno. Nel caso in cui segnassero scaleranno classifica mensile sbloccando lungo una griglia premi come GP, Football Points e persino carte Big Time per Dream Team. Inoltre è stato aggiunto un nuovo formato per il matchmaking nella iFootball League. Quattro tier per il matchmaking, per il matching. Tre livelli per tier più un livello tutorial a parte. Questo sarà da capire e da vedere perché da qui dice, non dice, la scala sarà su dieci livelli laddove il dieci è quello più basso e l'uno è quello più elevato. E qui c'è quello che, come dire, ci dice che il livello 10 è il tutorial, 7, 8, 9, 9, 4, 5, 6, intermedio, 3, 2, 1 avanzato. Questo spiega uno sviluppatore nimponico impedirà ai giocatori livelli inferiori di essere accoppiati con giocatori più esperti. Quindi 7, 8, 9 tra loro, 4, 5, 6 tra loro, 3, 2, 1 tra loro. Già succede la maggior parte delle volte. Però in questo caso con il nuovo matchmaking ci sarà proprio l'impossibilità che un divisione 2 possa incontrare l'8 o il 5 e l'1. Ecco qua. Quell'altro discorso, dettaglio eccetera, no, dovrebbe essere questo. Quindi dovrebbe essere sostanzialmente solo questa la novità del campionato, ma staremo a vedere. Ci potrebbe anche essere altro da scoprire giovedì. E poi, eccola qui, la My League. Questa è confermata finalmente e mi dispiace per i direttori di Renan Galvani. Aveva detto Renan Galvani che sarebbe arrivato il 7 dicembre, settimane e settimane fa. Non ha preso esattamente quello che sarebbe stato la modalità di dettaglio. Non le ha presi, ma il 7 dicembre aveva fatto breaking news, arriverà, arriverà. E aveva ragione, ragazzi. Punto. La sorpresa più grande è ineditamente la nuova modalità di gioco denominata My League. My League permette agli utenti di giocare la stagione annuale usando Dream Team e la propria squadra creata. Cioè, poi la stessa cosa. I giocatori potranno anche vedere i posizionamenti e le altre squadre nello stesso campionato. Quella classifica verrà aggiornata nel corso della stagione. Qui pure sarà da capire. Le classifiche consisteranno in 36-38 partite e gli utenti affronteranno un team forte ogni 5 partite. Questo ci fa capire che sostanzialmente sarà una modalità offline, però con il Dream Team. Non ci saranno limiti al numero di volte in cui sarà possibile giocare la modalità. Cioè, finite e poi riprendete. Un dettaglio economico viene da sottolineare infine. Il meteo cambierà lungo tutta la stagione. Saranno introdotte delle cazzine ad hoc per aumentare le immersioni. Un ulteriore dettaglio sull'update V3.2.0 sulla modalità saranno svelati questo giovedì. Quindi la modalità MyLeague arriva. Si utilizzerà il proprio Dream Team e quindi così Konami fa contenti gli utenti che volevano i campionati per l'offline, ma fa contenta anche se stessa perché se uno vuole fare la squadra forte anche per l'offline potrà fare il microtransazione. Poi nessuno impedisce di prendere tutti i giocatori con i GP e fare il proprio Milan, la propria Atalanta, il proprio Napoli, la propria Juve e fare, come dire, un campionato con le squadre reali. Dall'altra parte non so se ci saranno squadre orarie o meno. Questo lo vedremo. Però ovviamente se volete salire in questi posizionamenti e le altre squadre nello stesso campionato, sicuramente se avrete leggende, bustate, eccetera, eccetera, sicuramente presumo che sarà più semplice battere gli avversari. Questo poi è quello che ha ripreso Renan Galvani, ma che ho letto anch'io. Master League e Modifica, infatti Game Reactor gli aveva chiesto questa domanda, non spetta a noi speculare sulle altre modalità di gioco. Parlano i due europei, diciamo, perché ovviamente il gioco, il centro, il fulcro è in Giappone. Il football ha cambiato il gioco per noi a tutti i livelli. Siamo passati da PES e il suo modello annuale al free-to-play. Stiamo cercando di creare una piattaforma accessibile. E qui il commento di Renan Galvani. Per quanto riguarda la Master League e l'editing è facile capire la strategia, anche se non sono d'accordo. Non abbiamo più un modello annuali. Ragazzi non rilasciano mai tutti in una volta, anche se ML e edit sono già pronti, questo lo dice Renan Galvani. E' una questione strategica che devono far andare avanti il gioco per molti anni a venire. Quindi il 7 dicembre arriverà MyLeague, arriverà il nuovo minigame con il rigore, il 7 dicembre arriverà il cop matchmaking, il 7 dicembre cambieranno un po' di cose per il campionato. Non sarà più possibile che ci sia troppa discrepanza fra i livelli dei giocatori e poi vedremo se magari ci sarà ancora qualcosa in più. Io non credo, credo che queste siano tutte le informazioni. Dubbiamente ragazzi questo, questa secondo la mia opinione, è il secondo aggiornamento più importante di sempre nella storia di football dopo quello dell'aprile 2022 quando uscì Dream Team. Oggettivamente adesso, al di là dei propri gusti personali, pensateci qual è stato un aggiornamento più importante di questo. Arriva la MyLeague, arriva il matchmaking per il cop, arriva questo giochino, arriva i cambiamenti per il campionato. Secondo la mia opinione, questo è il secondo aggiornamento più importante di football nella sua breve storia fino a questo momento. Questa è la mia opinione, queste sono le informazioni che ripetisco sono ufficiali. Niente indiscrezioni, tutto ufficiale ragazzi. Questo è tutto per il momento ma a breve in questo canale, no a breve, fra qualche ora lasciamo far diffondere questo video, ci sarà un altro video molto interessante ma non di football. Ragazzi aspetto i vostri commenti su tutte queste novità ufficiali e buona giornata.